Ieri il bambino più alto ha messo una pietra tra i denti e ha iniziato a masticare. Ha dimostrato a sua madre ciò che una bocca può fare se messa all'orlo e che una casa ristrutta è solo una casa ristrutta. Ieri tutti i bambini più alti hanno messo alla fame i nemici e raccolto i loro giochi in fretta. Hanno dimostrato alle madri l'ordine e la disciplina dei morti. Poi sono corsi a lavarsi le mani e ad ascoltare le notizie in forma di ninne e nanne. Potrei essere un cinghiale volendo e spararmi tra gli occhi volendo e nessuno ne penserebbe niente. Qualcuno si preoccuperebbe di estrarre il piombo dal corpo che non si incastri tra i denti che non ferisca le guance a mezzogiorno. A scuola le bambine si dispongono in base all'altezza dei loro gomiti. È una nuova regola. Le mamme all'uscita riempiono di sassi i sacchetti della spesa e nascondono gli scontrini tra le labbra. Hanno tutte un numero che identifica la nascita, che separa nascita giusta da quella a giusta distanza. A casa le bambine si riempiono d'acqua e sognano forti gomiti da scavalcare come in una guerra. Chi sopravvive fa merenda. Le altre di corsa in bagno a riflettere sulla perdita.